L'auspicio è che ci sia un momento di ulteriore riflessione che metta a fuoco tutte queste problematiche e che cerchi di mantenere in questo territorio un asset che è appunto rappresentato da questa società. Questo l'auspicio dell'assessore regionale Vincenzo Ceccherelli in merito alla vicenda LFI. Nelle scorse settimane era stato infatti il presidente della società, Maurizio Seri, a lanciare l'allarme sul futuro al rischio della linea ferroviaria che unisce Arezzo al Casentino e alla Valdichiana, minato sempre secondo Seri dalla decisione della provincia di uscire dalla società. La vicenda finirà il prossimo gennaio in tribunale. La provincia è infatti intentato causa per il recesso. L'ente vuol vendere le sue quote di partecipazione ed uscire. Questa ferrovia, che è di proprietà della regione, tra l'altro gode in questo momento di un'attenzione particolare perché sono programmati investimenti per oltre 20 milioni per quanto riguarda la sicurezza perché rinnovando il contratto proprio ad LFI la regione ha consentito un investimento di oltre 8 milioni per l'acquisto di due nuovi treni Jets. Per quanto riguarda l'azienda, ho visto che si è aperto un dibattito. L'auspicio è quello che tutte le istituzioni lavorino per non perdere quello che considero un patrimonio di questo territorio ma un patrimonio della Toscana perché LFI è un'azienda che oramai chiude i bilanci inutili da moltissimi anni. È un'azienda che è tra le poche che in Italia hanno la licenza per gestire il ferroviario. È un'azienda che finalmente uscirà dal recinto della piccola ferrovia per andare a fare servizio invece nella rete ferroviaria nazionale quindi sarebbe veramente un peccato che dovesse andare in liquidazione o comunque dovesse essere privatizzata senza una scelta oculata magari da ragionare assieme a tutte le istituzioni che detengono le azioni in questo momento. Il presidente della provincia Basai comunque era sicura sul futuro del servizio ferroviario a retino. Si può anche in casi nei quali siamo in difficoltà gridare al lupo al lupo insomma io credo che nessuno pensa e vuole mettere in liquidazione nulla.